Ciao amici, oggi facciamo un giochino. Allora, partiamo dal fatto che questa è fantascienza, nel senso di come c'è la fantapolitica c'è anche la fantascienza. Facciamo finta che si possa scegliere quale vaccino farsi iniettare domani. E voi mi dovete dire quale, in base a quanto vi hanno influenzato i giornali e quanto vi hanno influenzato le vostre ricerche, quanto vi hanno influenzato gli influencer dei vaccini, i divulgatori su internet, Roberta Villa, Dario Bressanini, Entropy for Life, eccetera, che avete seguito e con cui vi siete informati. Quanti pregiudizi avete magari, non so, sulla Russia e sul loro sistema di ricerca scientifica, insomma, ecco, in base a tutte queste cose qui, vorrei che voi mi faceste una classifica dei vaccini dal più preferito al meno preferito, senza stare lì a pensare al fatto che ovviamente non è che potete scegliere, giustamente non si può scegliere, anche perché non ci sono. Si possono pensare anche ai vaccini ancora non esistenti, quindi anche il Johnson & Johnson che non è disponibile, lo Sputnik russo, se vi piacciono quelli cinesi, anche quelli cinesi, insomma, ma quelli li escluderei. Comunque per ricordarveli, i vaccini sono AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, lo Sputnik, basta, non mi vengono in mente altri. E quindi fatemi una classifica con questi o con altri se volete, magari iscrivetemi perché scegliete questo, perché avete messo questo in ultima posizione, e poi con i dati così raccolti, magari cercherò di fare una... non so, vediamo se in base a quante persone partecipano, cercherò di prendere questi dati e cercare di spiegare perché possono essere così, se sono sensati, se non sono sensati. Se voi mi dite, ad esempio, io preferisco il Pfizer perché sono un infermiero, l'ho già fatto il Pfizer, ad esempio, e avrei comunque preferito il Pfizer, oppure sono un infermiero e ho fatto il Pfizer, ma avrei preferito Moderna perché... Ok? Fatemelo sapere, prendiamo tutti i casi possibili e immaginabili. E niente, così era... mi sembrava una cosa divertente. Ciao!